La visita fra Valeria Bartolucci e Luis Da Silva si è svolta in un'atmosfera carica di tensione emotiva. Da Silva, accusato dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, ha trascorso del tempo con sua moglie, la quale ha dimostrato un forte coinvolgimento nella sua vicenda legale. L'incontro, avvenuto in un contesto così delicato, è stato sorvegliato attentamente dalla polizia penitenziaria. Durante le perquisizioni prima e dopo l'incontro, gli agenti hanno rinvenuto un elemento cruciale, una lettera nascosta, apparentemente lasciata in modo distratto. Questa lettera, un pizzino, rivela il profondo stato d'animo di Da Silva, che si scusa con Valeria per le sue azioni. Nella comunicazione, Da Silva esprime vergogna per l'accaduto e dispiacere verso la moglie per le conseguenze del suo comportamento. Questo scritto assume un'importanza significativa non solo sul piano personale, ma anche in ottica investigativa, poiché mette in luce il tumulto e la confusione che circondano l'indagato. La lettera, scritta con evidente emozione, riflette le pressioni emotive che Da Silva sta affrontando, rendendola di grande interesse per le autorità che seguono le indagini. Nonostante le gravi accuse, Luis Da Silva ha adottato un atteggiamento di riservo. Durante l'interrogatorio di garanzia, il giovane di origine senegalese ha scelto di fare scena muta, rifiutando di rispondere alle domande del giudice Vinicio Cantarini. Questa decisione di non dichiararsi innocente, né direttamente né attraverso il suo legale, l'avvocato Riario Fabri, solleva interrogativi sulla sua strategia difensiva. Il silenzio di Da Silva, unito al sequestro della lettera di scuse, contribuisce a un quadro investigativo sempre più complesso. Gli esperti legali avvertono che questo atteggiamento potrebbe essere interpretato negativamente dagli inquirenti e dalla pubblica accusa, potenzialmente rafforzando l'accusa contro di lui. La lettera, pertanto, potrebbe rivelarsi un elemento cruciale nel caso, offrendo ulteriori dettagli sul contesto e sulle motivazioni dell'omicidio. Un'analisi approfondita di questo documento potrebbe chiarire aspetti fondamentali dell'indagine. Il delitto di Pierina Paganelli ha scosso profondamente la comunità locale, suscitando un'ondata di sciocca e tristezza. La donna, conosciuta per la sua dedizione ai testimoni di Geova, era considerata un simbolo di integrità e valore. La sua morte violenta ha lasciato un'impronta indelebile su coloro che le erano vicini e ha suscitato reazioni diffuse nella società, dalle richieste di giustizia a un'indagine più approfondita delle circostanze del crimine. Le indagini sul caso hanno attirato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica. Le modalità dell'omicidio, le prove raccolte e le testimonianze delle persone vicine a Paganelli sono ora oggetto di un esame dettagliato. Il caso ha coinvolto non solo le autorità locali, ma anche quelle nazionali, nel tentativo di garantire che venga fatta giustizia in un caso così clamoroso. La situazione è in continua evoluzione, con nuovi sviluppi che emergono dalle dichiarazioni dei testimoni e dalla raccolta delle evidenze. In questo scenario, la lettera sequestrata a lui da Silva potrebbe avere implicazioni significative per la direzione delle indagini e per le eventuali responsabilità legali.